Allora, buonasera e benvenuti. Ecco un piccolo video che parla della realtà di oggi a livello lavorativo. Andiamo a capire che cos'è che ci può dare la, tra virgolette, la sicurezza o la maggiore tranquillità per il nostro futuro e andiamo ad analizzare le caratteristiche che ha oggi il posto fisso, ovvero essere assunti da un'azienda a tempo indeterminato o comunque come dipendente. Allora, ho portato, mi sono scritto qui, secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, alcune stime. Queste stime sono molto recenti e dicono che gli studenti di oggi cambieranno 10-14 posti di lavoro prima dei 38 anni. Nel prossimo futuro un lavoratore su quattro manterrà il proprio posto di lavoro, mentre uno su due lo manterrà per meno di 5 anni. Da oggi al 2030 l'80% delle professioni che conosciamo non esisterà più e saranno sostituite da professioni che nessuno è in grado di prevedere. Quindi, posto fisso, illusione o realtà, lo lascio dire a te. Perché facciamo un esempio, mettiamo che la tua azienda, che è molto solida, trasferisce la propria produzione o la propria sede in un altro Stato. E quindi tu che cosa fai? Hai la garanzia che questo non accadrà mai? Magari perché in altri Stati ci sono regimi fiscali agevolati oppure semplicemente perché ci sono dei costi più bassi. Se il tuo lavoro fra 10 anni, fra 5 anni diventerà obsoleto. Cioè, il tuo posto di lavoro come dipendente non servirà più. Perché tu costi di più di quello, tu andrai a costare di più di quello che l'azienda, di quello che tu porti all'azienda. Che cosa, che garanzia avrai? Se il tuo datore di lavoro fallisce, si sbaglia, prende decisioni che non sono lungimiranti. Tu che cosa fai? Se il tuo datore di lavoro si gioca tutto al casino, alla roulette. Tu cosa fai? Ci sono talmente tante variabili che ti possono garantire che il posto fisso è un'illusione di certezza. Non è la certezza. Anche perché dobbiamo capire, essere consapevoli che oggi più che mai non c'è più quella condizione in cui io vengo assunto da un'azienda e ci passo il resto della vita. Quindi ho un posto di lavoro che mi tengo per 20, 30 anni. Hai sentito le stime di prima? Cioè, le persone cambieranno, cambieranno, cambieranno 10, 14 posti di lavoro prima dei 38 anni gli studenti di oggi. E stiamo preparando studenti per professioni che oggi, cioè che oggi neanche ci sono, perché ci saranno professioni nuove che andranno a sostituire quelle di oggi. Sicuramente se facciamo due più due ci saranno le professioni manuali in cui magari i robot possono sostituirti, i robot, le macchine, i macchinari. Quindi capisci bene che se tu oggi non acquisisci quelle competenze per riuscire a crearti una tua realtà economica in cui il capo sei tu, non dico che devi guadagnare i milioni di euro, perché dico che oggi più che mai grazie all'online, al business che si può fare online, si può con poche migliaia di euro, ma con tante competenze, ok? Non ti puoi improvvisare, ma se tu studi e ti formi in modo specifico per capire e conoscere al meglio questi strumenti che sono online, i social network, insomma questo modo nuovo di comunicare che ha veramente rivoluzionato alla nostra realtà, allora tu con poche migliaia di euro potrai creare delle realtà economiche anche industriali che ti possono permettere di slegare il tuo guadagno del tempo e di non dipendere da altre persone. Perché? Pensaci bene, se tu inizi a creare valore aggiunto online, vendendo prodotti e servizi, tu puoi anche vivere in un'altra nazione, cioè non è detto che tu debba vivere per forza nella città in cui sei, quindi questo va a cambiare veramente le cose, quindi se stiamo prendendo sempre di più questa direzione e i numeri dicono questo, allora capisci bene che le esigenze che il mercato avrà da qui in avanti cambieranno e saranno molto mutevoli e cambieranno velocemente e allora se tu non ti aggiorni hai solo una possibilità, ovvero quella che ti fermi e quindi sei fuori dal mercato, diventerai obsoleto. E allora il mio consiglio è questo, inizi a studiare, a investire, a fare l'investimento più importante e migliore che tu possa fare da adesso in avanti, che è su te stesso. Inizia a acquisire le competenze, le strategie, a capire, a studiare, come hanno fatto persone a creare aziende, profitti in modo automatico e ripetitivo ma nel lungo tempo, non è che hanno fatto dei lanci e sono stati tra virgolette un po' baciati dalla fortuna, perché quella non è una strategia sostenibile, quella può essere anche dettata dal caso. Noi dobbiamo creare invece una strategia sostenibile che ci porta a un profitto, maggiore alle spese che abbiamo, quindi un profitto, delle entrate maggiori rispetto alle spese che abbiamo, ma nel tempo e che poi io possa anche diversificare. E che non mi obblighi nel tempo, chiaramente quando tu hai una start-up devi sempre lavorare di più, ma poi c'è una strategia che ti porta a slegare il guadagno dal tempo, quindi avere anche una condizione in cui puoi fare ciò che vuoi, quando vuoi, con chi vuoi, per quanto tempo vuoi. E' proprio questo quello su cui noi ci siamo specializzati, su cui sicuramente sono le competenze che ci hanno permesso di creare sia l'associazione Warrior Project, ma anche tutti i canali online di questa associazione per arrivare a più persone possibili. Infatti in pochi anni siamo arrivati ad avere dei risultati veramente importanti con investimenti di capitali praticamente inesistenti, perché sono investimenti da hobby, non sicuramente industriali. E allora noi siamo un'associazione culturale che comunque ha la mission di portare un valore aggiunto anche sociale, quindi facciamo beneficenza, diamo borse di studio e in più cerchiamo di, non cerchiamo, diamo informazioni importanti per crescere dal punto di vista personale e professionale a prezzi accessibili. E quindi abbiamo anche creato un insieme di corsi che sono un po' più costosi, perché lì infatti c'è la fattura con la partita IVA che noi possiamo fare, ma che vanno a trasmettere, a insegnare alle persone proprio gli stessi metodi che ci hanno permesso di arrivare a generare tanti iscritti, tanti soci, aumentarli in modo diciamo sempre esponenziale da un anno all'altro e a fare sempre il doppio nel 2017, nel 2018, nel 2019, nei primi mesi. Quindi noi vogliamo proprio insegnarti quello che abbiamo applicato a noi e che ci ha dato questi risultati. A te la scelta, puoi accedere a un corso gratuito sicuramente sulla crescita personale oppure altri corsi o sulla comunicazione o sul business, sul mindset che bisogna avere per gestire e crearsi un business sostenibile e di successo che puoi trovare nel link qui in basso. Quindi clicca nel link, segui o l'iscrizione del corso gratuito, non so quello che metterò nel periodo in cui stai vedendo il video, o l'iscrizione, la promozione, il corso del mindset che serve a una persona per passare da consumatore e diventare un produttore, cioè una persona che crea un valore aggiunto sul mercato e poi o lo vende o lo delega, tenendosi un profitto che è un po' basso, che è più basso di quello che avrebbe rispetto al fatto che se lui lavorasse dentro l'azienda, ma siccome lo delega diminuisce il suo guadagno ma non investe tempo, cioè è praticamente quasi totalmente un guadagno passivo perché c'è sempre da fare analisi, controllo e poi gli aggiornamenti vari. Quindi viene i corsi, guarda i video perché troverai oltre 150 video, forse siamo arrivati già a 200 sui nostri canali YouTube e Facebook, inizia a capire chi siamo, guarda le testimonianze e inizia a prendere una decisione. Restare dove sei e aspettare che le cose ti crollino addosso perché purtroppo sarà così, la certezza te la devi creare da solo e lo puoi fare, oggi più che mai delle opportunità incredibili oppure iniziare a investire su te stesso e creare le situazioni che ti ho appena spiegato. Quindi o aspetti e finché non ti fai male non ti muovi, quindi aspetti che ti arriva qualcosa addosso, oppure generi tu un cambiamento che sia sostenibile, che sia nel lungo tempo, quindi nel lungo termine e che porti un benessere a te e di conseguenza alla tua famiglia. Io ti auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video o in aula. Ciao!